Un minuto di silenzio per ricordare la psichiatra Barbara Capovani, la sua morte violenta per mandare un messaggio di cordoglio, di vicinanza di tutta l'assemblea legislativa al suo compagno, alla sua mamma, alle sue figlie. È difficile trovare le parole in questi casi, c'è tanta rabbia, tanto sgomento, ma l'impegno di portare avanti le battaglie la dottoressa Capovani su cui stava lavorando, di fare in modo che i suoi gesti di solidarietà, come l'ultimo di aver donato i suoi organi per salvare la vita di tante persone, possano avere ancora un seguito. Il nostro impegno è di non dimenticare e di fare in modo che l'assemblea legislativa porti avanti le battaglie che la dottoressa Capovani stava mettendo in campo anche attraverso la giustizia. La saluta consigliare del 3 maggio scorso si è aperta con un minuto di silenzio per commemorare Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa e Guido Sacconi scomparso nelle ultime ore, che nella sua lunga carriera politica è stato consigliere regionale dal 95 al 99, ricoprendo anche l'incarico di vice presidente dell'assemblea legislativa. In aula si è discusso anche di sicurezza per il personale sanitario, con una mozione presentata dal PD ed emendata da altri gruppi. Il testo verrà approfondito con un rinvio in commissione. Il dibattito ha fatto emergere ovviamente oltre al cordoglio per la vicenda della dottoressa Capovani la necessità di approfondire il tema della sicurezza dei sanitari. Noi avevamo proposto una mozione ma che voleva essere solo un inizio di una discussione, tant'è che è stata richiesta dall'opposizione il rinvio in commissione, ebbene abbiamo accettato il rinvio in commissione dove faremo insieme anche alle organizzazioni sindacali delle sedute su questo tema della sicurezza del lavoro, ben distinto però da quello dell'organizzazione della salute mentale. Sarebbe un errore anche a valle di una vicenda tragica come quella della dottoressa Capovani confondere l'organizzazione della salute mentale con il tema della sicurezza. Non c'entra niente, vorremmo affrontare anche il tema della salute mentale, dell'organizzazione delle REMS, ma sono temi che devono essere completamente disgiunti. Noi riteniamo che al di là del caso specifico comunque ci siano delle responsabilità politiche rispetto al contesto all'interno del quale questa tragedia si è sviluppata che non avrebbero potuto evitare il singolo caso. Ebbene essere chiari non vogliamo fare strumentalizzazioni in questo ambito, però nella gestione in generale della psichiatria ci sono tantissime responsabilità. In particolar modo si deve sapere che quando una persona viene condannata anche in via definitiva, se questa persona viene ritenuta psichiatricamente debole, se viene ritenuto un paziente psichiatrico, non sconta la pena in carcere, ma lo sconta in strutture alternative che siano chiamate REMS. Se in queste REMS non ci sono posti, le persone rimangono a carico della psichiatria di base, delle psichiatri o delle famiglie. In Toscana in questo momento ci sono 70 persone in attesa di poter scontare la propria pena dentro una REMS. La psichiatria infantile non esistono in Toscana posti letto in reparti psichiatrici dedicati ai minorenni, il che significa anche in questo caso che i minorenni o vengono messi in reparti per maggiorenni, probabilmente in un contesto drammatico che va a aggravare una situazione già fortemente compromessa o come sopra vanno nel carico degli psichiatri e a carico delle famiglie. L'intento anche dell'emendamento che abbiamo presentato alla mozione del Partito Democratico in cui viene richiamata la necessità appunto di una prevenzione e un maggiore intervento da questo punto di vista. C'è un dato nazionale che ci deve far riflettere ed è quello dell'aumento esponenziale delle aggressioni ai sanitari negli ultimi anni. L'altro aspetto che ci deve far riflettere è quanto questa regione con le REMS e con le cliniche di comunità sia in grado di accogliere le persone con fragilità e soprattutto quanto sia stretto il rapporto tra magistrati e operatori sanitari soprattutto nell'ambito della psichiatria per individuare, distinguere soprattutto quelli che sono i pazienti quindi con delle fragilità che hanno bisogno di una separazione di un certo tipo dalla società da quelli che sono comuni delinquenti. Abbiamo chiesto all'interno della mozione del Partito Democratico alla quale abbiamo votato a favore di permettere all'interno della conferenza Stato-Regioni di arrivare a degli strumenti chiari per poter fare una fotografia esatta del fenomeno e abbiamo anche fatto un'osservazione. I pazienti psichiatrici sono una categoria ma non dobbiamo dimenticare che molto spesso le aggressioni che sono avvenute all'interno degli ospedali vengono nei pronto soccorso dove spesso le condizioni esasperate di lavoro degli operatori e il momento anche particolarmente difficile che vivono i familiari e le persone che sono ricoverate fanno sì che ci siano degli episodi anche particolarmente gravi. Abbiamo bisogno di più Europa e vogliamo dirlo con forza qui in Toscana in Consiglio regionale. L'Europa è una comunità di popoli, di storie differenti e una comunità di visioni, di visioni tali da cercare di lasciare alle ragazze e ragazzi un futuro migliore. Oggi abbiamo necessità che la Toscana giochi sempre più un ruolo da protagonista in Europa. L'inno alla gioia e l'inno di Mameli suonati dall'orchestra Sarabanda della scuola secondaria di primo grado Massimiliano Guerri di Reggello in provincia di Firenze hanno aperto la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana dedicata alla festa dell'Europa che ha visto la presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tagliani che ha aperto la sua riflessione sul tema dei valori, dei risultati e delle prospettive dell'Unione Europea. Dobbiamo sentirci, dobbiamo festeggiare in maniera costruttiva la giornata del 9 maggio, però dobbiamo festeggiarla tutti i giorni. Capendo come ci sono frecci e difetti, come ci sono in famiglia, ma rinunciare a questa identità è un po' come rinunciare a un pezzo di noi. In aula anche gli interventi del Presidente e del Vicepresidente della Commissione Europa del Consiglio. È un momento che segna l'avvio anche del programma delle iniziative alle quali ha lavorato la Commissione Europa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, occasioni per parlare dell'Europa, occasioni soprattutto per affrontare le tematiche anche più rilevanti e nei prossimi giorni ci sarà anche la presentazione di altri momenti che ci auspichiamo possano richiamare l'attenzione generale. Per quanto mi riguarda mi è stato chiesto un intervento, sarà un intervento di riflessione della percezione che avevo fino a qualche tempo fa dell'Europa e grazie all'esperienza sia sportiva che quella politica e quello che è successo nel post pandemia, quello che è stata appunto la riflessione di che cosa è successo, di cosa è cambiato e di che cosa l'Europa dovrà continuare a fare. Nelle riflessioni dei vari gruppi consigliari i temi che legano il territorio toscano e l'Europa, dalla cooperazione internazionale e la pace all'immigrazione, alle politiche agricole e ai finanziamenti europei per il territorio. Per un'Europa libera e unita. Era il titolo originale del manifesto di Ventotene che è stato scritto da degli illuminati che hanno pensato a una federazione europea che fosse fondata sui principi della pace, della coesione, della collaborazione per superare i 30 anni di guerre che possono essere detti quasi ininterrotti tra la prima e la seconda guerra mondiale e che avevano devastato l'intera Europa. Questo appello oggi, questo titolo diventa più attuale che mai di fronte ai venti di guerra che ormai da più di un anno soffiano ai confini dell'Europa perché i principi di pace sono qualcosa che per essere coltivati hanno bisogno di essere stesi. Facciamo nostro questo titolo, facciamo nostro il manifesto e crediamo che mai come oggi ci sia bisogno di un'Europa forte all'interno di un sistema multilaterale in un mondo particolarmente complesso dove la pace deve essere cercata con tutti i mezzi. I fondi comunitari e la programmazione ordinaria svolgono un ruolo importantissimo per compensare le risorse proprio degli enti regionali. Penso alla politica agricola, penso anche ai fondi di sviluppo e ai fondi sociali che naturalmente aiutano in questo senso a programmare delle politiche importanti, le politiche giovanili, le politiche sull'occupazione. Quindi un rapporto che per noi è fondamentale. È chiaro che c'è poi un ruolo di attuazione di quelle che sono le risorse importanti che arrivano in regione toscana attraverso la programmazione e soprattutto attraverso i bandi. Sono occasioni fondamentali soprattutto oggi. Voglio ricordare oltre ai fondi ordinari il PNRR è una partita ancora aperta su cui si stanno giocando anche tavoli su più livelli, penso anche a livello nazionale, la necessità comunque di intervenire e a dover correggere magari laddove il PNRR oggi non è più al passo sui tempi. C'è poi la partita del ruolo dell'Europa più in generale. Io voglio anche ricordare quanto sia importante oggi che le nazioni che fanno parte del progetto europeo giochino la loro partita su tanti tavoli. Il primo che mi viene in mente è sicuramente il tavolo dell'immigrazione. Sì, l'Europa è la nostra casa, è il luogo dove ciascuno di noi vuole vivere, costruire il proprio presente e il proprio futuro. È la nostra grande opportunità. La Toscana festeggia la festa dell'Europa e si colloca sempre più in un contesto internazionale come regione d'Europa. Questa è la sfida alla quale siamo chiamati ciascuno di noi a rappresentare i cittadini toscani, a collocare il futuro dei nostri giovani. Per questo vogliamo costruire la solennità di un festeggiamento che entri nel cuore e nella testa dei cittadini toscani. Abbiamo bisogno di Europa, lasciatemi dire, di un'Europa realmente democratica, di un'Europa che sappia riscoprire le proprie radici, la propria identità democratica e cristiana, di un'Europa che faccia sorgere negli europei il sentimento comune di appartenenza e che sappia trattare in modo congiunto e in modo solidale questioni importanti come potrei citare quella dell'immigrazione. Abbiamo bisogno di riscoprire le origini di quella che doveva essere l'Europa dei Salvemini, degli Spinelli, degli Ernesto Rossi e del manifesto di Ventotene. Quello spirito ci deve appartenere, ci deve stimolare. Come sapete noi siamo per un'Europa delle patrie, dei popoli che sappia riconoscere nelle proprie radici il proprio futuro. In questo senso il Ministro ha più volte esortato insieme al Presidente Meloni l'Europa a svolgere un ruolo attivo soprattutto nei confronti dell'Africa che sta in questo momento subendo ancora una pesante colonizzazione da parte di alcuni paesi del mondo, in particolar modo la Russia, la Cina, mentre invece noi abbiamo rilanciato l'idea con il cosiddetto piano Mattei di una cooperazione leale che possa portare l'Africa a svilupparsi e a dare una casa ai propri popoli in modo da crescere in maniera autonoma ed evitare che siano costretti gli africani a lasciare le proprie abitazioni dando vita a flussi migratori che diventano ogni giorno sempre più incontrollabili. Ricordare la figura di Davide Sassoli e il suo grande contributo alle istituzioni europee. Dopo la prima edizione il Consiglio regionale della Toscana con un voto unanime ha detto sì alla proposta di legge che istituisce il premio di laurea Davide Sassoli. Sono particolarmente orgoglioso della legge che abbiamo appena approvato, una legge che sostiene i premi di laurea, le migliori tesi di laurea sull'Europa, un modo per ricordare un grande uomo, un Davide Sassoli. Negli anni di impegno come presidente del Parlamento europeo ha cambiato il modo di vedere l'Europa, un'Europa dei popoli, un'Europa che unisce, un'Europa della solidarietà e allora premiare i giovani che eccellono in queste materie è davvero un modo per portare avanti l'impegno e il pensiero di Davide Davide Sassoli. Una figura che ha rappresentato la nostra nazione, la nostra Toscana, soprattutto in Italia, in Europa, è stata una figura istituzionale, grandissimo giornalista ma anche una figura istituzionale e credo che questo debba essere da sprone per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri ragazzi, di un esempio di una persona equilibrata anche se politicamente eravamo e siamo su sponde diverse ma credo che assolutamente bisogna riconoscere il valore, l'esempio, la professionalità, la serietà di un personaggio come Sassoli per cui credo che questo sia veramente un risultato importante per la nostra collettività ma soprattutto una scelta importante per quanto riguarda la regione toscana. All'unanimità, come era già accaduto in Commissione Europa, come era già accaduto in prima commissione, l'Aula ha deciso di approvare una proposta di legge che istituzionalizza il premio di laurea intitolato a Davide Sassoli. Questo cosa significa? Significa che da oggi in poi questo riconoscimento, questa iniziativa che si rivolge ai giovani laureati, diventa patrimonio di tutto il Consiglio regionale e quindi è un appuntamento che diventa fisso da qui ai tempi che verranno e questo è un tema che era emerso già in occasione della prima edizione dove c'eravamo tutti detti che doveva essere qualcosa che si stabilizzava e che diventava strutturale e dunque a giorni verrà presentato il bando della seconda edizione di questo premio di laurea e quindi questo voto unanime, lo voglio evidenziare ancora una volta, è anche il modo, avete sentito anche le parole del Vicepresidente Galli per ricordare una figura di una personalità straordinaria, una persona che ci manca molto ma che come sentiamo ogni giorno continua a essere al nostro fianco e con questa iniziativa lo sarà ancora di più anche nei tempi che verranno. Sassoli è una figura importante per la Toscana, per l'Europa, in avvicinamento alle giornate dell'Europa ovviamente una istituzionalizzazione di una borsa di studio importante per dei premi di laurea, di una legge che diventa istituzionale del Consiglio regionale, sarà duratura nel tempo l'idea di premiare dei ragazzi e con la ricerca ovviamente parlando, il ricordo di Sassoli parleranno dell'Europa, del nostro ruolo, la Toscana è sempre più una regione d'Europa e in questa ambizione ovviamente il Consiglio regionale vuole premiare i migliori studenti, i migliori laureati che nella nostra regione dedicheranno i propri studi, i propri testi di laurea a quello che è diciamo uno dei padri della nostra Europa. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!